ehi ragazzi ciao a tutti le nicchè bentornati qua su farming simulator 19 nella mappa coronella allora raga volevo mettere un silos per posare e conservare questo insilato solo che costa un botto dei soldi un silos quindi ho pensato ma mi conviene comprare un silo solo per conservare l'insilato penso che no anche perché già abbiamo dei debiti a comprare un silos visto che costa più di 100 mila euro penso che non ne vale la pena quindi ho pensato ma forse non è meglio se vendiamo l'insilato e via tanto alla fine che me ne devo fare di tutto sti insilato il problema chiaramente è quanto vale l'insilato perché se vale tanto perfetto beh a diaverità vale 517 non è male come prezzo potremmo proprio venderlo ma aspetta un attimo però aspetta un attimo perché il biogas in teoria lo dovrebbe pagare meglio in teoria e poi il biogas dovrebbe avere lui stesso il bunker per fare l'altro insilato quindi dove sta il biogas in sta mappa eccolo qua e me sa che va comprato vero ma quanto costa 334 mila euro però mi sa che ci vuole effettivamente spendere 150 mila euro per un deposito quanto 400 mi compro direttamente il biogas oltretutto il vantaggio del biogas è che quanto meno posso anche produrre l'insilato là perché qui in farm abbiamo problemi con l'insilato abbiamo problemi col bunker quindi me costa 334 compriamolo e vediamo se adesso di fatti guardate o paga il triplo 1500 che so scemo si spendiamo dei soldi ma me lo paga di molto di più molto di più quindi beh qui già ne abbiamo di soldi eh che poi volendo oltretutto possiamo vendere e poi magari restituire il biogas non è che per forza me lo devo tenere sto biogas ok quindi stiamo per vendere al biogas bene tanti bei soldini da questo fieno effettivamente da questo fieno che ci devo fare io ci potrei fare l'altro insilato ovviamente potrei benissimo farlo e come potrei fare l'insilato sì potrei mi conviene se me lo paga 1500 certo perché no anzi stra conviene alla fine a tenerlo come fieno non ci risolvo molto mi conviene tantissimo farci insilato ma quasi quasi perché no per intanto vediamo di fare un bel pieno un bel pieno qua di fieno ma poi che c'era da fare non mi ricordo più i terreni 7 e l'altro il 16 non mi ricordo li ho seminati sopra sono pronti per la raccolta forse si sono pronti per la raccolta eccoci qua quanto poco spazio lo odio troppo poco questo spazio è veramente snervante odio quando c'è poco spazio per fare le manovre veramente sta mappa è troppo piccola ma vuoi vedere che neanche ci passo per di qua in qualche modo ci passiamo e se non ci passo per di qua piuttosto probabile scema ma che roba va beh l'unica sapete qual è? spingere la lama dentro e poi la riagganciamo che si può fare? questa è l'unica soluzione spingere la lama dentro va che mi tocca fa allora dispiega dunque generazione lavoro sul campo 16 3 giri di campo per andare sul sicuro anzi fammo pure 5 va tanto guarda quanto è grande sto terreno via e lo salviamo terreno 16 trincio rotondo ma sinceramente trincio trincio cancelliamo ma non so manco come caspita fare cancelliamoli poi in caso li ricreo quindi questo però adesso me lo salvo terreno 16 trebbio mais eccetera ok primo punto avvia percorso a posto ok dunque quindi non abbiamo camion noi no? ah ma neanche l'ho mai messo il camion quello del fiat ancora non l'ho proprio neanche messo vediamo nel caso lo mettiamo la prossima volta probabilmente perché qui comunque un camion non c'è e sicuramente serve allora il biogas non è lontano l'ho mandato dai suini perché i suini sono de strada però ovviamente la nostra vera destinazione è un'altra facciamo un wreck anche se è un po' complicatello qua meno male che la sbarra si alza allora mo' sto punto vendita dovrebbe essere qua dietro magari mi pigliava il punto guarda e non posso vendere cos'è sta storia? oh lo temevo non mi dire non mi dire che devo vendere scaricando dall'alto non mi dire che devo vendere scaricando con una pala aggommata o ci vuole una rampa e se me la creo una rampa perché non è che ci posso è stretto per una pala aggommata per qualsiasi cosa qua è stretto sinceramente non lo so se può funzionare allora ho creato una rampa chiaramente non è molto bello vedere sto robo qua ok beh già un po' meglio beh ci proviamo no? allora non mi serve più che mi segni il biogas so dov'è vediamo se così ci si può scaricare dentro oh si prova alla fine cavolo è venuta veramente cioè è venuta bene la rampa uh funziona mamma mia sono un genio del male sono un genio del male va che roba si ripeto non è bella lo so non è bello coprire così lo so però dai che ci metto una pala aggommata qua in sto posto così stretto no così non ci siamo cavolo ok raga purtroppo meglio di così non si può fa' allora boh basta che funziona allora adesso ci mettiamo più avanti e riprendiamo a registrare no no non va bene però aspetta un attimo ferma la registrazione ok qua ci mettiamo la scritta biogas crea poi dobbiamo fare una cosa importantissima perché si vede che non è unito uniamo sto punto con sto punto bene ok e adesso possiamo riprendere la registrazione quindi mo si esce di qua o meglio più che uscire di qua dato che sto bunker è mio facciamo una bella cosa ce lo segniamo e quella rampa lì è buona sta rampa chissà che serve allora segniamo comunque anche qua quindi non lo so come lo chiamo bunker insilato segniamo bunker insilato biogas crea così posso mandare qua poi ok già che ci sto vorrei anche unire questo con questo e poi giustamente dobbiamo unire mosti vari punti bene mi manca un'ultima piccola cosa da fare qui e cioè unire questo con questo basta perfetto abbiamo così unito tutto ora in teoria se io gli dico di andare in farm dovrebbe rientrare dentro di fatti perché è la strada più corta vabbè ha tirato giù un palo ma almeno è entrato ora in teoria farà il giro del biogas vabbè in teoria qui i problemi non ce ne ho lasciato spazio di manovra ok perfetto funziona bene dai bene sarà una cavolata poi allora vediamo un po' dobbiamo riprendere noi qui ah e io mo' questa roba difatti la mandiamo la mandiamo proprio nel bunker insilato biogas perché in teoria posso far diventare sta roba insilato visto che vale un bel po' di soldi perché no se non ci può diventare insilato lo famo diventare compost effettivamente è vero c'è da far pure il compost aspetta cos'è che vale di più il compost o l'insilato una bella domanda beh vale un po' di più proprio questo e allora mi sa che con sto fieno ci facciamo se tutto va bene allora andiamolo al compost facciamo compost allora mi servono questi ok lì c'è qualcuno che è appena arrivato quindi terreno numero dove cacchio vai no 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 allora qua a sinistra andrà benissimo ok vai riccardo perfetto ma comunque qui come eravamo rimasti ok vediamo quindi se è rimasto buggato oppure no perché da quando abbiamo aggiornato la mappa non abbiamo più rifatto compost vediamo se è rimasto buggato oppure no speriamo di no perché era molto comodo fare qua il compost quindi io spero proprio che non è buggato spero tanto di no proviamo a scaricarne un pochino c'è un problema mi sa che questo non è più il posto giusto qua mo si chiama vaste quindi qui ci si fa qualcos'altro mi sa che qua mo ci si fa qualcos'altro che io non so cos'è e mo c'è pure il problema che ho fatto una cagatona perché mo come cavolo faccio a raccogliere sta roba da qua non è mica facile raccogliere sta roba mo qui ripuliamo ci va qualcos'altro ok ah ok allora questo qua mi serve per l'insilato chiaramente un bel po' lo con poi beh un po' mi serve un po' di insilato per fare cibo però vabbè muo vediamo allora per intanto continuiamo a caricare l'insilato qua dentro che così boh vabbè un po' lo vendiamo che abbiamo bisogno di ripagare il biogas allora questo va va dove va questo latte latte ah si ancora è presto per quella cosa ancora per il formaggio è presto che poi mi pare che ancora lo dobbiamo comprare no si è vero va ancora acquistato quello ok e col doppio carrellino è tutto più facile no cavolo non mi aspettavo mica che partiva vai allora quanto contiene quella 14.000 mi pare sta trebbia no più o meno quindi continuiamo a scaricare siamo 8.000 10.000 a 10.000 ok abbiamo dei soldini che giustamente diamo indietro visto che abbiamo sto mega debito ehm si mamma mia ma è tutto buggato sto bunker fa proprio schifo ah si è sbuggato meno male almeno questa almeno si è sbuggato quantomeno qua si è sbuggato quanto ne abbiamo 260.000 ok però però questo bunker è strano allora comunque scarichiamo qui non mi va di scaricare lì vediamo un po' eh pula vediamo te pareva non si può scaricare che ci famo allora questo fieno quindi non ci si può fare un bel niente ok allora mandiamolo ok allora c'è un posto ancora mi ricordo che c'è un posto che era da sistemare ma non lo so a che serve deve essere qui da qualche parte lo cacchio è questo che cacchio è sto cosa sto bunker buttato qui a qualcosa deve servire ma a che cosa ok quindi dato che qua è tutto uno schifo si vede chiaramente che è da abbassare sto terreno più o meno eh più o meno è da abbassare un po' sotto ok i soldi non mi bastano per sistemare sto danno io non so a che serve questo facciamo così in modo tale che di qua si può scendere ora io vorrei capire a che diamine serve sto coso suppongo che ecco va livellato così chissà a che diamine serve beh se io vado qui sicuramente me lo dice a che serve ok oh cavolo guarda gli alberi come volano si sto pagando non si sa per quale motivo ma ok soldi finiti mi sta costando un po' riparare sto danno eh mi sta costicchiando riparare sto danno però siccome non ho voluto non ho voluto ricominciare la partita bisogna farlo ok questo deve essere un bug comunque aspetta ok non mi piace vedere questi difetti così è più carino va bene ah che diamine serve sto coso boh non lo so comunque sia rimandiamo in farm a questo eh è qui no si è qua è qua qui è dove abbiamo spianato sistemato vediamo che cacchio è sto coso non lo dice proprio ho speso 30.000 euro qua tanto per chissà che diamine serve sto posto quindi boh non so che farci con sto fieno che ci fanno con sto fieno non ne ho la più pallida idea direi che però aspettiamo un attimo perché sta cosa la voglio capire comunque sia dobbiamo mandare questo sempre al biogas questo è poco ma sicuro che almeno cerchiamo di recuperare un po' l'investimento che abbiamo fatto che abbiamo speso tanti soldi quindi chiaramente dobbiamo recuperare un po' e niente non so che farci con sto fieno cioè hanno cambiato tutto e non mi spiego neanche il perché non mi spiego neanche perché hanno fatto tutti sti cambiamenti per quale motivo che poi qua il simbolino non l'hanno neanche cambiato è quello forse non si può fare col fieno è vero che io qui ci scaricavo l'erba e la paia è vero io qua ci mettevo erba forse paia è vero non ci ho mai messo mi sa il fieno qua dentro forse non si può fare col fieno forse non si può fare con il fieno può essere allora poi ci proviamo di nuovo con la paia a posto ah già con i girasoli ci possiamo fare l'olio di girasoli stavolta lo possiamo fare tranquillamente visto che non mi fa più quei cavolo di cosi ora si si può fare benissimo comunque per ora questo va bene qua questo sta andando il punto di scarico è qua però c'è un piccolo 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 problema sto cacchio di alberello dai ho bisogno di tagliarlo veramente cioè in modo tale che non dà fastidio bene mo st'alberello ovviamente rompo un po' le scatole ok a posto togliamolo da qua ok e mo posso fare la manovra ah scarichiamo sto fieno ok vabbè raga il tempo è volato via mi sa che ci fermiamo qua spero che il gameplay vi sia piaciuto mi raccomando come sempre commentate iscrivetevi lasciate un bel pollicione in su ci si becca presto ragazzi ciao alla prossima ciao a tutti Grazie a tutti.